Sicuramente, perché quest'anno ce ne stanno succedendo un po' di tutti i colori, però adesso la squadra ha un certo tipo di atteggiamento e quindi crede molto di più in quello che fa, non molla nessun pallone. Anche oggi ne è stata la dimostrazione, in dieci per buona parte della gara sotto di un gol abbiamo pareggiato questa partita soffrendo, stringendo denti, azzannando quello che ci era possibile degli avversari, quindi devo fare solo i complimenti a questi ragazzi perché vogliono questa salvezza, ci credono e se continuano così secondo me la otterranno. A Fieri non lo so che è successo, due munizioni nel giro di 30 secondi, gli stavo dicendo proprio che l'avrei cacciato se avrebbe continuato a protestare, ma non l'ho fatto neanche in tempo e l'arbitro subito ha estratto anche il secondo cartellino giallo, quindi sono cose che non devono capitare, queste sono le cose negative. Mentre Scardillo abbiamo solamente ringraziato questo ragazzo per la prestazione che ha fatto oggi, che ci sia qualche errore è normale, vediamo anche nei campi di Serie A, è la sua prima partita, un ragazzo si sta allenando con noi da tanto tempo, ha fatto un errore, però ha fatto anche delle buone parate, quindi siamo contenti di lui. Sì, tantissimo, tantissimo, partita regalata, tra virgolette, siamo riusciti a perdere senza aver subito un tiro in porta, abbiamo fatto sull'azione del gol o tre o quattro errori, però questo è calcio, quando non chiudi le partite, che lasci così in bilico, contro una squadra nervosa, contro il Castelfumano, anche se è rimasta in dieci, quando lasci la partita aperta può succedere sempre l'imprevisto. Mi dispiace, però anche dobbiamo pensare più di tanto perché c'è mercoledì che dobbiamo fare una buona partita. Padovani-Zammarchi è una delle coppie più belle del campionato, anche se oggi non hanno brillato al massimo, ma si è vista la qualità della coppia e poi Mengani, questo giovane 2004, una nota di merito anche per lui. Sì, sì, Mengani è uno che si è capitato a fare gol, oggi le punte hanno avuto una giornata brillante, per me sono due punti importanti per la categoria, oggi purtroppo Zammarchi avrà tirato 4-5 volte, gli è partito mal tiro, Padovani uguale, dopo sono partite queste, ma la sensazione c'era, se non riesce a chiuderla siamo stati Pollinoi. Pollinoi abbiamo regalato il gol, è una partita in controllo, però in questo momento è così, dobbiamo soltanto ripartire, individualmente va bene, menge un ragazzo di prospettiva, un ragazzo importante che può ancora crescere tantissimo.